Educare un bambino al cibo sano e alle corrette abitudini di vita fin da quando è poco più di un bebè. È il progetto lanciato da un'università londinese rivolto ai bimbi dai 18 mesi in su. Una sorta di scuola di dieta dove i piccolissimi vengono nutriti con frutta e verdura e incoraggiati all'attività fisica. Lo trova un progetto interessante o crede che sia esagerato pensare a queste tematiche quando il bimbo è ancora così piccolo? Io sono stata educata così perché mia mamma è una nutrizionista. Quindi assolutamente concordo, anzi se le impari da piccolo poi non hai dei problemi da grande. Quindi io lo trovo un'ottima idea. Quindi che tipo di alimentazione aveva da bambina? Poca carne, tanto pesce, legumi, frutta e verdura di stagione perché abbiamo un orto. Quindi proprio quello che prevedono loro di base è lo sport perché mi ha aiutato non tanto nel fisico quanto nel carattere. Quindi concordo perfettamente. Ed è riuscita a mantenere queste abitudini alimentari? Sì, tranne nei viaggi che vabbè quelli sono un po' particolari però sì, decisamente sì. E mi sono trovata, noi siamo diabetici di famiglia quindi mi sono trovata decisamente molto meglio. Posso non prendere farmaci perché sono stata educata così da piccola per cui assolutamente funziona, con me ha funzionato. Ha dei figli? No. Ok, qualora dovesse averne in futuro comunque tenderà ad educare nello stesso modo immagino? Sì, decisamente sì. Nel limite del possibile perché io sono stata cresciuta avendo la possibilità di avere dei prodotti a chilometro zero qua. Quindi sì, se vivessi in una grande città magari questo sarebbe un po' più difficile ma poi si trovano i metodi. Sì, sì. Secondo me i primi che dovrebbero educare i bambini sono i genitori quindi forse la scuola per i bambini così piccoli è un po' troppo presso. Però dall'altro canto se non lo fanno i genitori perché nel Regno Unito soprattutto hanno un'alimentazione assolutamente sballata la scuola potrebbe essere un valido aiuto per le famiglie in generale. Quindi in Italia secondo te non si segue un'alimentazione corretta o comunque i genitori non ne fanno seguire uno ai propri figli? Secondo me rispetto ad altri paesi siamo messi molto meglio come tipo di alimentazione, come varietà anche di alimentazione. Direi che forse a noi non servirebbe tanto quanto nei paesi più nordici. I tuoi genitori ti hanno fatto seguire un'alimentazione particolare oppure no? Oppure sei cresciuta mangiando merendine e bevendo bibite gasate? No diciamo che i miei genitori ci hanno sempre provato, da piccoli è molto più semplice perché i bambini quello che gli dai mangiano è crescendo che si diventa schizzinosi, si perde la voglia di assaggiare, di fare le cose, però comunque i miei genitori ci hanno veramente provato fino in fondo. Però ad oggi non segui un'alimentazione diciamo che rispetti determinati canoni? Mi piacerebbe avere una varietà di cibi maggiore che mangio perché per tutta la questione di proteine, vitamine, la verdura non ne vado matta, la frutta tanto meno, quindi mi sforzo però. Cioè se sento che è necessario quindi mi sforzo. Hai figli? No. Se dovesse averne in futuro pensi che comunque gli farsi seguire un'alimentazione adeguata? Sì, assolutamente, ci proverai in qualsiasi modo. Quindi divieto assoluto a bibite e merendine al cioccolato per esempio? Saltuariamente dai, cioccolato no, non si può togliere dall'alimentazione di una persona normale. No, cominciare da piccoli senz'altro è giusto, per evitare comunque che anche a due o tre anni possano essere bambini troppo grassottelli eccetera, sì. Secondo lei c'è questa abitudine comunque a non seguire un'alimentazione corretta per i propri figli? Sì, perché ormai troppa pubblicità, troppi prodotti, la gente compra troppe cose, sì, in effetti sì. Quindi è anche colpa della pubblicità secondo lei? Per certe persone sì, io non mi lascio incantare dalla pubblicità, però per certe persone sì. Lei ha dei figli? Due. Quanti anni hanno? 13 e 21. Quindi sono già grandicelli. Hai iniziato a seguire un'alimentazione specifica già quando erano così piccoli oppure no? Così piccoli no, però attenzione alle calorie sì. Ancora oggi? Sì, ancora oggi. Quindi in casa vostra merendine e bibite gasate non ce ne sono? Qualcosa sì, ma non si usano più di tanto, no. E anche lei? Anch'io sì. Grazie. 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 Grazie.